Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Antonella ha fatto delle dichiarazioni sul suo canale broadcast di Instagram, mettendo a tacere le voci che circolano su presunte esclusioni da alcuni programmi televisivi. Ma prima di continuare vi invito a iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati e per darci il vostro supporto gratuito, ma per noi importante. Antonella ha spiegato che, contrariamente alle voci circolanti, non è stata scartata da alcun programma, in realtà ha dovuto rifiutare alcune opportunità interessanti perché a partire da marzo sarà coinvolta in un progetto a Pechino e deve rispettare il suo contratto. Questa è una grande opportunità per lei e la sua decisione è stata dettata dagli impegni professionali che la terranno impegnata nel programma. Inoltre Antonella ha sottolineato con fermezza che gestisce la sua carriera in modo indipendente, prendendo decisioni su dove e quando partecipare a programmi televisivi. Ha affermato di rifiutare molte proposte per concentrarsi su progetti che ritiene significativi per il suo percorso professionale. Ora la domanda che ci facciamo è, cosa ne pensate di ciò che si dice sul conto di Antonella? Siete d'accordo con le sue scelte e con il modo in cui affronta le voci false che circolano su di lei? Inoltre una fan ha riferito a Dejanira Marzano di aver visto Antonella all'aeroporto con due valigie, una grande e una piccola, mentre era sola almeno in quel momento. Questo ha suscitato ancora più curiosità e domande tra i suoi seguaci. Dove pensate che possa essere andata? E da sola o con qualcuno? Vi invito a condividere le vostre opinioni nei commenti qui sotto e se ancora non l'avete fatto vi chiedo gentilmente di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie e discussioni. Ci vediamo al prossimo video e grazie per essere qui con noi. Grazie per la visione!